E poi Alessi Gasi E questo è l'odo, credo Fatta al femminile, con attenzione Caterina Mangolini, ho due ragazze Bolfatti, Nicola Bolfatti Bolfatti, non è Francesco Mattia Bergosti Anna Mangolini Attenzione c'è una buca qui ragazze, andate piano Sì, ci vorrebbe Cagliare la parte di qua Sto terminando la parte dei 1.573 Sto arrivando anche Osmane Landaui, Filippo Pavani Sì, di là, di là, di là, di là, state di là, state di là Silverus A sella Bravi, bravi Ah, state di qua, di qua, di qua Vai Sabrina Eh, i 15 anni si sentono, eh E già Guri di nuovo Di qua Tra poi E tra Gavioli Sto arrivando anche Iba Iba Faite Grazie